Al fine di accelerare il completamento delle vaccinazioni e garantire la piena protezione al maggior numero di persone già a partire dal mese di giugno, è stato aggiornato il calendario degli appuntamenti previsti per la somministrazione della seconda dose di vaccino AstraZeneca per tutte le persone che abbiano già ricevuto la prima dose da febbraio ad aprile 2021. Tutti gli appuntamenti delle seconde dosi di vaccino precedentemente prenotate negli app vaccinali di Taranto e provincia sono stati anticipati e riprogrammati nell'app allestito presso il centro commerciale Porte dello Ionio di Taranto. La nostra presenza oggi è quella di comunicare a tutta la cittadinanza che da lunedì 31 maggio 2021 inizierà una nuova riprogrammazione del Lab Porte dello Ionio per quanto riguarda il piano vaccinale. Abbiamo pianificato quindi una programmazione su cinque giorni lavorativi durante la settimana con due sedute straordinarie la domenica di 12 ore e questo ci permetterà sempre utilizzando questo modello di vaccinare circa 57.000 cittadini con la seconda dose AstraZeneca. Questo perché? Perché abbiamo evidenziato in questa esperienza fatta di un mese e mezzo che il modello organizzativo del drive è un modello vincente. Questo ci permetterà di lavorare sui tempi che abbiamo già standardizzato e proprio questo significa che durante questo periodo vaccinale riusciremo ad aumentare molto quella che è la vaccinazione nei confronti della popolazione. Il cittadino arriva in auto quindi in maniera molto comoda quindi noi consigliamo anche di indossare degli indumenti diciamo molto comodi perché comunque la vaccinazione viene fatta all'interno dell'auto. Possono anche venire più persone nell'auto massimo tre persone e questo logicamente è a nostro vantaggio perché aumenta il numero dei vaccinati. Il nostro percorso si basa su tre fasi una fase diciamo prevaccinale dove c'è poi l'accettazione del cittadino, la fase vaccinale vera e propria e poi la fase post vaccinale in cui il cittadino in maniera molto comoda parcheggia all'interno del drive e nei 15 minuti riceverà l'attestato vaccinale. Quindi tutto questo avviene in pochi minuti dove non c'è una grande attesa. Ecco queste sono le leve che hanno determinato il successo di questo modello organizzativo. Questa modalità vincente ormai che sta dando pieni successi a livello numerico soprattutto per quanto attiene alla grande massa di gente che viene a vaccinarsi come seconda dose presso lo stesso AB viene proposto anche questa volta per un target di oltre 53-55 mila per soggetti. Perché la seconda dose presso l'AB Porta dell'Ionio? Perché comunque la seconda dose è più veloce, la seconda dose deve farsi assolutamente come diceva il direttore sanitario poc'anzi in un'altra intervista e perché comunque dobbiamo offrire al cittadino nella velocità più possibile e più veloce l'opportunità di essere immunizzato verso ahimè questo benedetto virus che è il Covid-19. Perché l'importanza comunque che dobbiamo sempre tenere come obiettivo a livello di programmazione ASL e direi a livello di programmazione nazionale, regionale è quella di vaccinare nel minor tempo possibile il maggior numero di soggetti e quindi raggiungere quello che tra virgolette viene definita la famosa immunità di gregge. Perché solo così noi riusciamo a tenere lontano il virus e riusciremo comunque ad evitare malattie e non soccombere e tenere i nostri ospedali così come li abbiamo tenuti fino a qualche settimana fa. Quindi l'invito alla popolazione è di seguire le indicazioni dell'ASL, dei comunicati ASL, recarsi presso il nostro hub e quindi fare in modo che il tutto vada come deve andare e come è andato fino ad oggi. Grazie